konichiwa giappolovers benvenuti a tutti voi nel mio canale sono come sempre giappogamer benvenuti qui su the ninja saviors return of the warriors per un nuovo episodio siamo giunti all'episodio numero 7 di questo videogame veramente incredibile allora andiamo subito a vedere che cosa succede in questo nuovo episodio stage 7 mamma mia mamma mia siamo quasi all'episodio alla fine di questo videogame in salsa retro gaming incredibile prendi questo qua così no ok vai così a cazzottoni e non ci provare ok bene ah e c'è l'androide che palle no sta lontano e cavolo bastardi maledetti e prendi questo così oh grande missili che c'è pure una mano vai così missile che ci dà una mano grande ancora missile che ci dà una mano vai così e schioppate oh e prendi questo qua e si ci sta un puriken e e si ma sempre su di noi sti cazzo i missili facci i vostri e prendi questo qua così e schioppate un po' ahio vai che ci abbiamo l'energia però ahio e prendi questo qua così e prendi questo qua e prendi questo qui fatemi sotto bastardi maledetti vai così ahio e no così così a cazzottoni ninja così a cazzottoni ahio no caccia volante fa male no sei ancora tu e prendi questo così ok possiamo andare avanti bene grande ninja così a cazzottoni a cazzottoni qua ci siete voi e c'è ancora l'androide prendi questo va dai android inizia a stare lontano bravo va lontano si capisco che posso andare avanti ok non tacca due tacche ok bene dai state lontani buoni tutti vai che manca una tacca vai così ok l'androide è andato bene vai prendi questo qui e quanti siamo qua vai così schioppai tutti così 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 ahio e no e no e no maledetto robottino spara missili vai prendi questo prendi quest'altro al volo al volo vieni vieni vai di sotto aio questo fa male quello questo fa male tacci tua e prendi questa roba qui vai si scarica di botte e andiamo avanti bene così ok fai sotto brutti bastardi e no e dai vai così ok crepate vai prendiamo questo va prendete questo così prendi questo così così no ci sei ancora tu e scendi giù cala giù no ma che caspita ci stanno qua i jogger ma che caspita ma che ma sei con loro tutti ma che so arcobaleno e prendi questo qui così no ci sono pure gli androidi e prendi questo qua così bastardi maledetti e prendi questo qua così vai bastardi no 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 e prendi questo qua così e schioppate va bastardi maledetti dovete schioppare male no cazzarola tacci vostri e prendi questo qui tacci vostri maledetti bastardi e prendi questo qua così oh schioppate tutti eh che caspita che c'è qua quanti siamo tacci vostri così così ancora diri tu e prendi questo che fa si muove e prendi questo qui così 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 fatevi sotto brutti bastardi maledetti ok bene si può andare la vedo un segnale che non che non mi piace proprio vai che abbiamo preso un po' di energia che caspita hanno ancora i joker qua incazza maia poi quello si è già colorato aio aio no 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 e prende questo qua così bastardi e proseguiamo prendi questo joker vai così così ma che caspia che spara mortacci tua e prendi questo ok ok una sorta di ascensore prendi questo qui così non te riparà che caspia sbuca qua vuole questi ma si eeeh si e in quanti siamo qua vai prendi questo così prendi questo così oh cazzarola siamo i boss fight e calla no dai che mi viene mal di mar che caspita è e prendi questo qua così c'è pure i joker c'hai aio così 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 aio aio no no che fai da lunghi si pure i droidi oh oh e così e prendi questo qui faccio i vostri ok che è una sorta di ascensore e prendi questo qui così e no e no e prendi questo eeeh si quanti siamo qui e prendi questo no che caspita è a cazzo siamo i boss fight si è stioppa tutto eeeh la peppa prendi questo va aio e prendi questo qui così aio c'è pure i jogger eh aio e no aio eeeh si pure i androidi ok Ok, siamo su questo ascensore. Così, così. Prendete questo qui. Eh no. Eeeh, sì. E prendi questo qua, così. Vai, vieni qua, vieni qua, grande e grosso. No, cazzo, ora siamo in boss fight. Porca la miseria. Ehi, prendi questo qua, così. No, cavolo, che fai? Ci prendi così al volo. E prendi questo qui, così. No, cazzarola. Vai, così. No, 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 no. Cazzarola, ho pure gli androidi. Ok, sì, vabbè. È l'allero, tutti quanti. Ok, vediamo un po' di questo ascensore. Che caspia succede? Ah, io, no. E prendi questo qui, così. E prendi questo qui. Ok, quello è andato. Così, così, così. Fatti sotto. Così. Che succede? Nooo. Siamo di boss fight, cazzarola. Nooo. Ma che è che schioppa? Prendi questo, così. 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 Liscio. Vai, così, così. Così. Sì. Sì. Iatta. Zelos. Trofeo guadagnato. Trofeo di giornata. Bene così. E anche il settimo stile è già andato. Ottimo così. Schioppa, schioppa. Ed eccoci giunti nella schermata principale, ovvero anche nel menu principale di questo The Ninja Warriors. Mamma mia, ragazzi. È veramente incredibile questo videogame retro. Retro, veramente, c'ho la pene, dobbiamo giocarlo. Allora, anche questo episodio numero 7 ovviamente termina qui. Io spero che vi sia piaciuto. Credo che se così fosse il video lasciarmi un big like, un commento, una condivisione. Sono sempre ben accetti. Vi aspetto nei miei vari social, vi rivedo come sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram e canale Telegram. Vi aspetto anche nel mio canale. Mi raccomando vi iscrivetevi, attivate la campagna per rimanere semplicemente aggiornare i miei vari video e episodi su gaming giapponese a 360 gradi. E in ultimo vi ricordo anche il mio blog su WordPress, giappogamer.home.blog dove scrivo praticamente news e recensioni varie sui giochi che riesco a portare a termine. E allora, cari giappoloversi, vi aspetto anche lì. E quindi, bene così. E allora, quanto riguarda questo episodio numero 7, io vi ringrazio una a uno, vi abbraccio forte a voi, sono Giappogamer. Per il momento è tutto, matanne e ai prossimi episodi! Grazie. 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 Grazie.